Bentornati, la bella notizia è che la pandemia non ha portato solo cose brutte, c'è chi ha approfittato del lockdown per dare un contributo alla collettività e chi è abituato a infilare la testa sotto l'acqua, ma stavolta non per sfuggire dalle proprie responsabilità, ma per il bene comune. Per un libornese sarebbe impensabile vivere la sua liborno senza questi canali, senza le sue fortezze. In questo momento dove il covid interversava, dove comunque sia meno traffico di imbarcazioni, ha permesso ai sedimenti di depositarsi e ha regalato trasparenza ai fossi cittadini. E quindi un bel giorno è apparsa una foto sul giornale di una bicicletta con vari copertoni accanto. Mettiamola così, invece di stare fermi facciamo qualcosa di buono, facciamo qualcosa di bello per la nostra città. Ok, io ti sento bene, ti sento benissimo. Vai! Vai, la bicicletta! Ok! Motorini, biciclette, copertoni, batterie d'auto, imbarcazioni affondate, tavolini, seggiole, fusti della birra, bottiglie di birra. Una discarica vera e propria. Considerate se è arrivato all'altezza del barbino, ora puoi stare anche più vicino, diciamo. Hanno recuperato dieci cartelli stradali, qualche cassonetto, due motorini, varie biciclette, ruote di tutti i generi, fusti di birra, tavoli, sedie, oltre quattro relitti di imbarcazione. Ed ecco, pensate, se ciascuno di noi facesse il suo piccolo gesto quotidiano per la comunità, quanto futuro che abbiamo rubato ai nostri figli potremmo restituire. Insomma, lunedì prossimo parleremo anche dello sceriffo d'Italia, il governatore De Luca. La sua è vera gloria. Prima di chiudere, lasciateci fare due precisazioni. Allora, la scorsa settimana avevamo parlato, nell'RSA, in particolare avevamo parlato di quelle riferibili al gruppo COS. Ecco, dobbiamo precisare che Carlo De Benedetti non possiede attualmente quote di COS né direttamente né attraverso CIR. Poi avevamo anche parlato del PD Varesino, avevamo detto dei prestiti erogati dalla Fondazione Molina a RSA di Varese, a uno dei quali era finito in mano ad un proprietario di una TV locale che poi ha sostenuto indirettamente la vittoria del candidato sindaco PD. Ecco, non volevamo in alcun modo intendere che il finanziamento fosse stato diretto al PD direttamente. Ce ne scusiamo. Bene, la nostra puntata termina qui, la potete vedere in replica sabato alle 16.30, sempre sul nostro sito. Però non andate via perché dopo di noi c'è la nostra, Francesca Fialdini, con la sua fame d'amore. C'è bisogno d'amore, tanto. Rimanete qui, grazie per averci seguito. Rimanete qui, grazie a tutti.